e buongiorno 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 a tutti io sono andreina è la terza la quarta volta che provo a registrare questo video perché non ho trovato ancora la giusta posizione la giusta luce insomma e sto cercando di fare del mio meglio anche provando un po a divertirmi insomma voglio cimentarmi anch'io in questa avventura di youtube e vorrei provare a fare dei video dei video soprattutto di assaggi di cose che non ho non ho mai provato di cose magari un po più difficili da reperire al supermercato e soprattutto voglio lasciare per me stessa una testimonianza di quello che sarà l'ultimo mio anno nei 30 perché appunto l'11 settembre compirò 39 anni e l'anno prossimo saranno 40 quindi anch'io farò parte di quelli che sono già appunto negli anni devo dire che questo questo traguardo per me è un po pauroso insomma mi fa un po paura perché è un traguardo importante è un traguardo in cui magari già uno dovrebbe aver raggiunto determinati obiettivi determinate cose e io non mi sento non mi sento affatto arrivata perché ho sempre tanti tanti progetti tanta voglia di realizzare cose e soprattutto di cimentarmi sempre in cose nuove e quindi vorrei appunto lasciare una testimonianza tangibile delle cose che farò in questo ultimo anno ecco comunque adesso vado a prendere le cose che vorrei provare e farvi vedere bene il prodotto con cui voglio iniziare questa avventura sono appunto i grisbi al cocco come dice l'etichetta dice di punto di gustarli freschi da frigo io li ho tenuti in frigo già un giorno perché li ho comprati ieri e quindi sono sicuramente abbastanza freschi adesso andiamo a vedere un po' l'analisi nutrizionale che è sicuramente abbastanza importante ogni biscotto alla bellezza di 91 calorie quindi direi che uno massimo due ce li potremmo permettere ecco gli ingredienti vi faccio vedere una parola una panoramica veloce e vabbè adesso andiamo ad aprirli benvenuti nella mia cucina apriamo insieme questi grisbi verso cui ho delle altissime aspettative perché adoro il gusto al cocco si presentano nella classica confezione dei grisbi che vado ad aprire in ogni confezione se non sbaglio se ne dovrebbero essere nuove vediamo un po' se sono fuori si ce ne sono ce ne sono effettivamente nuove sono i classici grisbi che tutti conosciamo con la frolla al cacao già appena li apriamo il profumo di cocco è qualcosa di spettacolare adesso vado ad assaggiare sono veramente buonissimi forse avrei dovuto uscirli un poco prima dal frigo perché la crema è abbastanza solida però il gusto del cocco è spettacolare quindi se vi piace il cocco vi piace il cacao ve li consiglio la crema ci soglie in bocca ed è veramente buonissima buonissima davvero approvati ci ho messo tanto a trovarli però alla fine l'attesa ne basta la pena davvero perché sono veramente veramente buoni quindi ve li consiglio per questo primo video è tutto ho in serbo un altro pacchetto di biscotti in frigo ma le assaggieremo insieme nel prossimo video ciao